Abbiamo qui e presentiamo un manifesto veramente storico, un manifesto del 1967, quello che annuncia il quarto congresso nazionale del partito radicale, col titolo La sinistra contro il regime, che era la parola d'ordine di questo congresso, che si svolgeva a Firenze, nel palaggio di parte guelfa. E' un momento interessante, importante, perché siamo nella fase di ricostituzione, in qualche modo, del partito radicale dopo che il vecchio partito radicale del mondo di Pannunzio si era dissolto, poi lungo gli anni si era riformato, ricostituito, c'era stato un congresso a Bologna, che era il terzo congresso in cui era ripartito il partito e questo a Firenze era il quarto congresso e il primo congresso che si svolge secondo lo statuto nuovo del partito radicale di allora all'inizio di novembre. E da allora sempre all'inizio di novembre c'è stato il congresso radicale e questo è il primo convocato in questa occasione. Lo slogan, il partito radicale di allora, che era un gruppettino, eravamo 200 persone forse, si proponeva di federare, di unire la sinistra, tutta la sinistra, dai comunisti ai socialdemocratici, ai gruppi e movimenti di nuova sinistra che stavano nascendo, eravamo alla vigilia del 68, a questo congresso in cui noi proponevamo le parole d'ordine, unità, alternativa e rinnovamento della sinistra, avevamo invitato, guardate, pensate nel 67, avevamo invitato esponenti autorevoli del partito comunista, del partito socialista, delle forze di sinistra a venire al congresso non a fare dei saluti, a fare le relazioni, a fare le relazioni introduttive perché il congresso fosse un dibattito dell'intera sinistra per una politica di alternativa. Allora la nostra battaglia era l'alternativa attraverso il rinnovamento, il rinnovamento della sinistra per l'alternativa, la sinistra si cambiasse per poter essere alternativa e realizzare un'alternativa alla democrazia cristiana, a quello che allora chiamavamo il regime democristiano. Questo è il senso di questo manifesto che ha ancora il primo simbolo radicale, quello della donna, la testa di donna con il berretto frigio che era il simbolo del partito radicale di Pannunzio del mondo, che ha continuato a essere il simbolo del nuovo partito radicale di Pannella, di Spadaccia, di Teodori, di Bandinelli e degli altri per alcuni anni per poi cambiare successivamente. Questo è il simbolo storico, è il simbolo della continuità nella diversità, nel rinnovamento del partito radicale. A questo provo vi ricordo a tutti www.astaradicale.it per partecipare a questa asta.